Passa l'estate ma l'emergenza rifiuti è sempre in agguato e anche se i comuni della viviera dei Cedri tivano chi più chi meno un sospiro di sollievo, i problemi rimangono e qualche amministratore aguzza l'ingegno. È il caso di San Nicolarcella dove il governo Mele è al lavoro per mettere in piedi il proprio centro di prima lavorazione dei rifiuti che dovrebbe garantire un po' di tranquillità nei momenti di blackout del sistema regionale. La procedura è ancora lunga, tante le norme che bisogna prendere in considerazione, soprattutto per lo smaltimento del percolato. Non sarà questo a scoraggiarci, ha dichiarato il vice sindaco Eugenio Madeo. Questo progetto andrà sicuramente a buon fine. A Praia Amare invece l'amministrazione Pratico è tornata sul problema dell'evasione tributaria. Il primo cittadino è deluso dal comportamento dei gestori delle attività ricettive e commerciali. molti, ha detto, non hanno differenziato i rifiuti e hanno messo in crisi l'intero sistema di raccolta. Inoltre diverse attività non hanno pagato i tributi sulla spazzatura. Voglio ribadire che la Regione Calabria ha limitato l'accesso alle discariche a tutti i comuni che non hanno fatto fronte ai pagamenti della tassa regionale per il conferimento. Quindi, a concluso Pratico, se l'ente non incassa i tributi, non può pagare la Regione. Nonostante ciò, e per non finire come tanti altri comuni, abbiamo dovuto fare enormi sacrifici. In risposta all'evasione, l'ente della città dell'isoladino ha anche messo in campo azioni eclatanti come la riduzione del servizio di raccolta della spazzatura e le attività morose. Ma l'emergenza rifiuti non è passata. Solo la fine dell'estate e il calo delle presenze la rendo un po' meno visibile agli occhi dei calabresi. Fatto sta che, anche lì dove tutto sembra tranquillo, sono servite delle scappatoie. Molti lienti che hanno utilizzato le isole ecologiche e le aree di trasferenza come discariche temporanee per evitare il disastro ambientale, ossia cumuli di spazzatura lungo le strade. Intanto, il 25 settembre 2015, l'ex amministratore dell'Alto Tirreno Cosentino S.P.A., Francesco Rovito, doveva presentarsi davanti ai giudici per aver conferito, tra Tortore e Scalea, in aree non autorizzate al conferimento dell'indifferenziato, spazzatura di qualsiasi genere. Fatti avvenuti tra il 2009 e il 2011, quando l'emergenza rifiuti in Calabria c'era, come oggi, e anche gli escamotage non erano tanto diversi. Grazie a tutti.